Ora hai pubblicato l'elenco di trattini, la ho perso la via, oppure sto perdendo gli trattini, perché gli trattini e sarò ovunque, l'elenco non finisce più, che non vogliono, che non vogliono, che non vogliono, che non le stichiamo di trattata e fare più. E rispondendo, e farò ovunque, e farò ovunque, e farò ovunque. e sono riuscito a correre dentro da che sono parte, da te, quanto pare, parte da me quando pare, parte da me sono riuscito a 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 rius Grazie a tutti.